Siamo con Francesco Torturiello e Vincenzo Chimirri, loro due parteciperanno alla squadra nazionale che difenderà i nostri colori a Lisbona. Come sarà questa avventura? Sicuramente emozionante, anche perché per me è la prima volta. Poi sono a fianco ad un grande campione, quindi sono emozionatissimo. Sicuramente mi aiuterà. Ringrazio Francesco e si vede che è un mio vero amico. Sono contento anch'io. Speriamo di far bene. Io monto un cavallo che ho fatto binomio da poco. L'Oxio di Lisbona l'avevo già fatto qualche anno fa. È un concorso secondo me molto importante, è una bellissima arena. Ci vogliono dei cavalli abbastanza coraggiosi. Secondo me abbiamo una buona squadra e andiamo avanti. Tu chi monterai invece? Io monto Kinoa, il cavallo con cui ho affrontato tutto il tour negli Emirati Arabi. È un cavallo giovane, che però ha dimostrato di avere buone qualità per affrontare questi tipi di giri e quindi sono abbastanza fiducioso. Campionato italiano, cosa ne pensi? Quest'anno secondo me, a parte che il direttore di campo non ha bisogno di presentazioni, ha messo un bellissimo campionato abbastanza difficile e trovo che il mio cavallo ha saltato molto bene. Alla fine ho parlato anche con tanti miei colleghi, eravamo tutti molto contenti di come ha messo i percorsi e ha fatto una buonissima selezione senza mettere delle difficoltà o delle cattiverie per i cavalli. Questo secondo me è fondamentale. Noi appunto siamo rimasti nei primi, sia io che Francesco, e per questo poi la scelta di Roberto Arioldi a mandarci a Lisbona. Il tuo campionato? Il mio campionato italiano, come già ho detto precedentemente, è stato tutto in salita, nel senso che ho trovato un po' di difficoltà il primo giorno, ma il cavallo dopo nei due giri ha saltato veramente bene e quindi sono stato molto soddisfatto delle sue prestazioni. Sicuramente Uliano è il numero uno, ha fatto grande selezione, ma i cavalli hanno saltato bene, il relax e siamo stati molto contenti. Parliamo di obiettivi dell'anno. Obiettivi dell'anno. Io per il momento ho questo obiettivo qua di Lisbona e quindi mi concentro assolutissimamente su questa tappa e su questa esperienza che per me è la prima volta, quindi incrocio le dita e spero Ciccio che tu mi aiuterai tanto. Ci aiutiamo a vicenda, si fa squadra. Ok, grazie mille. Ci vedremo, no? Sicuramente sì, speriamo bene. Speriamo bene, incrociamo le dita. Grazie.